Nella leggera nebbia del mattino di mezza primavera la Baixa si risveglia intorpidita e il sole nasce lentamente. C'è un'allegria quieta nell'aria semifredda e la vita a leggero soffio della brezza rabbrividisce vagamente per il freddo già passato, per il ricordo del freddo più che per il freddo che prova, per il confronto con l'estate e avvenire più che per il tempo che fa. I negozi sono ancora chiusi eccetto la latteria e i caffè ma il riposo non è indolenza come quella della domenica è soltanto quiete. Una traccia bionda s'annuncia nell'aria e l'azzurro si colora pallidamente di rosso attraverso la bruma che si dirada. Rari movimenti cominciano a vedersi per strada, si nota la distanza fra un pedone e l'altro e delle poche finestre aperte alcune figure albeggiano. I tram fanno rimbombare a mezz'aria la loro sagoma mobile gialla e numerata e di minuto in minuto cessa la desertificazione delle strade. Flutto, attento solo ai miei sensi, senza pensieri o emozioni. Mi sono svegliato presto, sono sceso in strada senza preconcetti. Esamino come chi analizza, vedo come chi pensa e una lieve nebbia d'emozione sorge assurdamente in me. La bruma che si dirada dall'esterno sembra infiltrarsi in me lentamente. Senza volerlo sento di essere stato pensare alla mia vita. Non me ne ero accorto ma è stato così. Credevo di stare solo guardando e ascoltando mentre percorrevo oziosamente le strade. Di essere soltanto un riflettore di immagini date. Un paravento bianco su cui la realtà proietta luci e colori invece di ombre. Ma ero qualcosa di più senza saperlo. Ero anche l'anima che si nega. E il mio strato osservatore era anch'esso una negazione. L'aria soffusca per la scomparsa della nebbia. Soffusca di luce pallida con la quale la nebbia sembra essersi mescolata. All'improvviso noto che il rumore è molto aumentato. Che esiste molta più gente. L'incedere di un maggior numero di passanti si fa meno frettoloso. Irrompe spezzando la sua assenza e la minor fretta degli altri il passo veloce delle pescivendole. Il barcolare dei panettieri con le loro ceste mostruose e la diversificata uguaglianza delle venditrici di tutto perde la sua monotonia nel contenuto delle cose dove i colori sono più diversi dal contenuto. I lattai fanno tintinnare come chiavi vuote e assurde i recipienti di latta diseguali nel loro mestiere andante. I poliziotti sono immobili agli incroci. Smentita in uniforme della civiltà di fronte al movimento invisibile del giorno che sorge. Magari fossi, lo sento in questo momento, qualcuno che potesse vedere tutto questo come se non vi avesse niente a che fare se non il fatto di vederlo. Contemplare tutto come se fosse un viaggiatore adulto arrivato oggi sulla superficie della vita. Non aver imparato fin dalla nascita ad attribuire un senso prestabilito a tutte queste cose. Poter separare l'immagine che le cose hanno in sé da quella che è stata loro imposta. Poter riconoscere nella pescivendola la sua realtà umana indipendentemente dal fatto che la si chiami pescivendola e dal sapere che esiste e che vende. Vedere il poliziotto come lo vede Dio. Notare tutto per la prima volta, non apocalitticamente come rivelazione del mistero, ma direttamente come gemmazione della realtà. Sento suonare. Devono essere otto i rintocchi che non conto, le ore del campanile o dell'orologio grande. Mi fa risvegliare da me stesso la banalità del fatto che esistano le ore, clausura che la vita sociale impone al fluire del tempo, frontiera dell'astratto, limite dell'ignoto. Mi risveglio da me stesso e guardando tutto, ora già pieno di vita e della solita umanità, vedo che la nebbia, scomparsa dal cielo, salvo qualche brandello non proprio azzurro, che aleggia ancora nell'azzurro, mi è penetrata veramente nell'anima e allo stesso tempo è penetrata nella parte interiore di tutte le cose, laddove queste entrano in contatto con la mia anima. Ho perduto la visione di quel che vedevo, sono divenuto cieco, pur vedendo, sento già con la banalità della conoscenza. Tutto questo non è già più realtà, è la vita. Sì, la vita a cui anch'io appartengo e che mi appartiene, non più la realtà che appartiene a Dio soltanto o a se stessa, che non contiene né mistero né verità, che proprio perché è reale o finge di esserlo, esiste da qualche parte fissa, libera, di essere temporale o eterna, l'immagine assoluta, idea di un'anima esterna. Dirigo i miei lenti passi più velocemente possibile verso il portone per salire di nuovo in casa, ma non entro, esito, proseguo. La prasa da figuera, sbadigliando mercanzie e multicolori, copre, riempiendosi di compratori, il mio orizzonte di girovago. Avanzo lentamente, defunto, e la mia visione non è più mia, non è più nulla, è solo quella di un animale che ha ereditato involontariamente la cultura greca. L'ordine romano, la morale cristiana e tutte le restanti illusioni che formano la civiltà all'interno della quale percepisco. Dove saranno i vivi? Grazie a tutti.